Scuole e ristoranti di nuovo aperti a pieno regime, l'annuncio di Draghi nel pomeriggio, l'Abruzzo ha i numeri per rientrare in zona gialla ma a partire dal 26 aprile. In troppi rifiutano ancora il vaccino AstraZeneca, avanzate oltre 36 mila dosi in Abruzzo. Il virologo Fazzi rassicura non ci sono rischi concreti. Incendio al Tortuga, indagini in corso sul rogo, i carabinieri sequestrano l'intero edificio, si teme il dolo dietro l'atto incendiario che ha distrutto lo stabilimento balneare. Campetto occupato abusivamente a Giulianova, l'ASP2 di Teramo chiede lo sgombero, Costantini tolto spazio ai bambini del Castoragno, una vergogna. E ben ritrovati con una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo. Dal 26 aprile verrà reintrodotta in Italia la zona gialla. Da annunciarlo è stato il premier Mario Draghi. Scuole totalmente in presenza e ristoranti aperti. I numeri dell'Abruzzo sono già da oggi. Zona gialla ci fa il punto il nostro Alfredo Giovannozzi. I numeri del contagio in Abruzzo sono anche oggi da zona gialla, che verrà reintrodotta a partire dal 26, come comunicato oggi dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Altri invece sono ancora da zona arancione. La regione è divisa in due. Quella dei 210 nuovi contagiati, non molti per la verità, e quella dei 17 decessi, troppi sicuramente. I 210 casi di positività registratisi nelle ultime 24 ore fanno comunque ben sperare per il futuro. Anche la percentuale di contagiosità è crollata dal momento che quella riferita solo ai tamponi molecolari, che sono stati 5.316, è pari al 3,9%. Mentre quella complessiva, che è comprensiva anche dei test antigenici, che comprende così un totale di 6.940 esami, è del 3%. Dunque, bassissima. Il dato riferito al territorio varia anche oggi, anche se gli scostamenti da una provincia all'altra sono minimi. Teramo conta 63 nuovi positivi, la provincia di L'Aquila 54, quella di Pescara 48 e Chieti 43. Come si vede, tra il dato più alto e quello più basso, ci sono solo 20 casi di differenza, ed è uno degli scarti più bassi di sempre. Si diceva in precedenza delle 17 vittime. Nove di queste sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi alle ASL, e il totale complessivo di coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia sale così a quota 2.315. Al momento, questa dei decessi è l'unica brutta notizia, perché le altre, come il ricovero ospedaliero ad esempio, non sono male. Sono infatti 12 meno di ieri i pazienti ricoverati nelle terapie non intensive e il totale dei letti occupati ammonta 525. Sono 4 invece i nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore nelle terapie intensive, ma il saldo, viste le 5 dimissioni, è di un solo letto in più occupato e il totale è di 57 ricoverati. Diminuiscono invece in maniera sensibile coloro che sono in isolamento domiciliare, con sorveglianza attiva da parte dell'ASL di competenza, e il totale è di 9.314, vale a dire 325 in meno rispetto a ieri. Crescono invece in misura più che sensibile i guariti, che aumentano di ben 526 unità. Questo fa sì che per la prima volta, dopo tantissimo tempo, gli attualmente positivi in Abruzzo scendano sotto quota 10.000 e siano 9.896, vale a dire 336 in meno rispetto al dato di ieri. Solo una ventina intanto i comuni abruzzesi che restano in zona rossa, lo ha annunciato il presidente della regione Marco Marsilio al termine della consueta conferenza stampa del venerdì sera. Ascoltiamo Sara Delvecchio. Diminuisce il numero dei comuni abruzzesi in zona rossa, sono una ventina e migliora la situazione pandemica, lo afferma il presidente Marco Marsilio al termine della cabina di regia regionale. Il governatore accoglie favorevolmente la decisione del governo di riaprire dal 26 aprile alcune attività come bar e ristoranti. Il numero dei contagiati è diminuito, non di molto, ma anche questa settimana è in diminuzione. Rispetto a un mese fa abbiamo la metà dei contagiati in tutta la settimana. Abbiamo la provincia di Pescara, che potremmo definire quasi in zona bianca, fa 66 di incidenza, Teramo-L'Aquila stanno intorno a 100-110. La provincia dell'Aquila, che è quella che destra più preoccupazioni, comunque ha un'incidenza in discesa, è poco superiore a 200, era più alta nella scorsa settimana, quindi vuol dire che le zone rosse che sono state decise la scorsa settimana hanno avuto un effetto di contenimento, tant'è che abbiamo registrato anche la possibilità di diminuire nel numero. Sono circa la metà questa settimana i comuni che resteranno in zona rossa, compreso i principali Arezzano e Magliano, però c'è comunque un primo segnale importante anche di contenimento nella provincia dell'Aquila, che speriamo di poter consolidare nella prossima settimana. L'Abruzzo comunque potrebbe avere i numeri da zona gialla dal 26? L'Abruzzo che viene è la quinta settimana, che è l'Abruzzo a numeri da zona gialla, peraltro questa settimana l'indice di rischio per la nostra regione scende da moderato a basso, quindi è una situazione non compatibile con il giallo, di più. Ripeto, la prossima sarà la quinta settimana, quindi se decidessero di aprire oggi, oggi saremmo tra le regioni che possono riaprire. In Abruzzo ancora troppi cittadini rifiutano il vaccino AstraZeneca e ci sono 36 mila dosi avanzate. Il virologo Fazzi rassicura che è un vaccino sicuro. In memoria di quello che è successo l'anno scorso, io penso che questo sia veramente l'ultimo mese di sacrifici. E probabilmente noi, quantomeno in Occidente, abbiamo forse superato la fase più critica di questa pandemia. Migliora dunque la situazione pandemica in Abruzzo e altrove. Prosegue la campagna vaccinale, ma in regione in tanti rifiutano AstraZeneca. Oltre 36 mila dosi di questo vaccino non sono state utilizzate. Con il virologo dell'Asl di Pescara, Paolo Fazzi, cerchiamo di capire quali potrebbero essere i rischi. Ti può dire comunque che AstraZeneca è sicuro? Allora, finora non ci sono delle vere e proprie evidenze scientifiche. Gli scienziati stanno studiando bene la relazione tra la tombosi venosa e profonda e questo tipo di vaccino a vettore virale. Quando si fa un vaccino c'è sempre un minimo di rischio. Però il beneficio che ti dà il vaccino è notevole. E' la storia della medicina che ce l'insegna, dalla vaccinazione antivaiolosa, antipolio, antitetanica, eccetera. Per cui io direi che bisogna andare a vaccinarsi comunque se un soggetto di sesso femminile in particolare, ma anche di sesso maschile, ha conoscenza di una particolare patologia trombofilica, quindi di una condizione che potrebbe comportare a questi soggetti la comparsa appunto di trombosi venosa e profonda o situazioni assimilabili a questa patologia, allora queste persone verranno magari vaccinate con un altro tipo di vaccino. Però i vaccini si devono fare perché il rischio di un'infezione e di una susseguente malattia da Covid è alta. Grandi lavori e grandi preparativi a Teramo per l'arrivo lunedì del Ministro Speranza che andrà a inaugurare il nuovo hub vaccinale. Sentiamo. Magnifico! Si sta lavorando perché è venerdì, lunedì arriva il Ministro, l'inaugurazione del hub per la vaccinazione. Beh, un bel lavoro. Sì, un bel lavoro, quindi consentitemi di ringraziare tutto il personale dell'Università di Teramo, la sinergia con la Fondazione e ovviamente il personale dell'Asle. Come abbiamo potuto vedere, quindi è coinvolto anche l'esercito sia per la visita di Speranza ma in generale anche per quanto riguarda il servizio d'ordine e poi servizi legati alla vaccinazione. Grande attenzione infatti per la visita di Speranza. Noi però possiamo fare una cosa, entriamo, andiamo a vedere come vi siete organizzati nelle stanze. Questa è una delle aule più piccole che prevede un unico punto vaccinale. C'è un punto di ricevimento con il pc e la stampante, quindi per stampare l'attestazione della vaccinazione. Le sedie, queste per l'attesa brevissima all'interno dell'aula. Le sedie in fondo, per chi deve, che ha già fatto il vaccino e deve. Una costa di 15 minuti e l'uscita direttamente dall'uscita di sicurezza. Quindi si entra da qui e si esce. Il flusso è un flusso unico e prevediamo di non creare attese prolungate nelle aule. Andiamo a vedere un'aula più grande, magari. Adesso ci accompagna l'operatore Simone e vediamo un po' se c'è. Sarà la radio di Ateneo e quindi in modo tale da avere anche intrattenimento musicale, intrattenimento musicale e culturale. E in questo spazio verrà collocato anche un pianoforte a coda, in modo tale da, ripeto, insomma, come dicevamo, quindi non solo vaccino ma anche sosta culturale. Allora, un'aula più grande che dovrebbe essere questa, così vediamo come vi siete organizzati, perché qui ci saranno, immagino, più cabine, almeno due. Sì, questa è un'aula con più posti e due postazioni. E vedete, praticamente ci sono due pc, un'unica stampante collegata in rete. In questo caso c'è un corridoio di divisione, la parte anteriore è per l'attesa del vaccino, la parte posteriore è per la sosta post-vaccinazione. Anche qui si entra da qui? Si entra da qui e si esce dall'altra porta. Quindi flussi che non si incrociano. Ieri sera al poligono di Teramo, un uomo si è tolto la vita. Drammatica vicenda che ha come testimone il presidente della Team, Ranalli, che ha rischiato a sua volta di perdere la sua di vita. Sentiamo. Presidente, nonostante il suo addestramento, ieri ha assistito a un suicidio che poteva essere anche altro. Sì, purtroppo sì. Devo dire la verità, non me l'aspettavo. Era una persona che era già venuta diverse volte in poligono, da almeno due o tre anni. Normalmente arrivava sulla linea di tiro, sparava i suoi 50 colpi e se ne andava. Ci racconta cosa è successo, come è successo? Ieri io sono arrivato tardi in poligono perché avevo da fare con la società e quindi sono arrivato alle 6 in poligono. Eravamo io e il direttore di tiro. Mi sono messo sulla linea di tiro per esercitarmi un po' e dopo pochi minuti, verso le 6 e mezza, è arrivato questo signore. Il direttore gli ha chiesto se voleva sparare a 12 o 25 metri, ha detto che voleva sparare a 25 metri, quindi l'ha messo sulla linea 8, che è una delle ultime verso destra. E io gli ho chiesto se voleva che gli fossi di supporto per vedere dove sparava mettendomi al binocolo la sua sinistra. Ho detto sì, sì, va bene. E ha iniziato a fare la normale esercitazione di tiro. Quindi ha sparato i primi colpi, sparava un po' basso, ovviamente l'ho corretto come è normale che si faccia con tutti gli utenti, anche con le appartenenti delle forze dell'ordine quando vengono a fare esercitazione. E quindi sostanzialmente è andata avanti la normale esercitazione di tiro. Poi siccome aveva sparato molti colpi, più o meno una quarantina, ha detto allora spostati un attimo dalla linea, che così sposto i bossoli, perché insomma non è bene che tu ci cammini sopra. Si è spostato dalla linea, io ho il tempo di spostare i bossoli, ho sentito un colpo. Con la coda dell'occhio ho visto cadere il corpo. Se lei fosse stata ancora col binocolo? Sarei morto pure io. Perché il proiettile, poi è venuta l'ambulanza, è venuta la polizia scientifica, il foro di ingresso era a tempio a destra, il foro di uscito era a tempio a sinistra e la palla ci è conficcata esattamente sulla paratia dove stavo io col binocolo. E stanotte ha dormito? Non molto. A Pescara si continua ad indagare sul rogo allo stabilimento balneare Tortuga e si pensa che possa essere anche di origine dolosa. Intanto i carabinieri hanno sequestrato l'intera area. Ascoltiamo il punto nel servizio di Sara del Vecchio. All'indomani del rogo che ha distrutto il noto stabilimento balneare Tortuga, vecchio tempio della Movida, al confine tra Pescara e Montesilvano, carabinieri e vigili del fuoco cercano di mettere insieme i pezzi del puzzle per ricostruire quanto avvenuto. Sono necessari ulteriori accertamenti per risalire alle cause dell'incendio. Un brutto colpo per i nuovi gestori Daniele e Federica Capperi, titolari del ristorante Toccaferro, pronti a partire con una nuova progettazione per l'estate. L'ex gestore Ivan Vaccaro è invece scomparso prematuramente due giorni fa a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Il locale, completamente inagibile, è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia di Montesilvano. Le verifiche dei vigili del fuoco sono andate avanti fino a sera ieri. L'allarme all'alba è stato lanciato da un pescatore. Le fiamme, infatti, non erano visibili dalla strada ma dal mare. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato i vigili del fuoco per diverse ore. Il rogo, in stato avanzato, ha complicato ulteriormente il loro lavoro. Una parte del locale è stata completamente distrutta. Le fiamme sono partite nella zona del bar e della veranda lato mare. Si è cercato di capire, in base alle prime verifiche, se può esserci stato un cortocircuito, ma al momento non si esclude comunque l'ipotesi dolosa. Non cederanno il passo tanto facilmente i ragazzi del campetto dello splendore di Giulianova dinanzi allo sgombero annunciato dall'Asp2 per far posto a un impianto sportivo da destinare agli ospiti dell'Istituto Castorani. Sentiamo. Difenderanno il campetto occupato fino alla fine i ragazzi di Giulianova che nell'area abbandonata di Viale dello Splendore hanno dato vita negli ultimi cinque anni ad un centro di ritrovo sociale e di aggregazione con iniziative culturali e non solo dovrà essere smantellato perché l'Asp2 ha ottenuto un finanziamento di circa 150.000 euro che consentirà di realizzare un'area attrezzata per i bambini ospiti dell'Istituto Castorani. Non hanno identità politica i creatori del campetto occupato che si sono ritrovati in assemblea per rivendicare questo spazio. Si svolgono anche iniziative di carattere, esempio culturale, spettacoli teatrali, anche corsi di teatro sono stati fatti e così via. Diciamo uno spazio aperto veramente a tutte le iniziative che naturalmente non abbiano un colore politico, che non si nascondano dietro un partito così simile ma sia un'espressione dal basso della gente. Il nostro obiettivo è difendere questa struttura perché appunto riteniamo che uno spazio sociale così sia veramente necessario innanzitutto a Giulianova. Qui c'è anche una roulotte che accoglie una coppia che non ha avuto la possibilità di accedere in una casa parcheggio o in un alloggio di proprietà del comune. I ragazzi aiutano queste persone e qui allevano anche delle galline. Uno spazio comunque ordinato, pulito. Le critiche nei confronti dell'azienda pubblica di servizi alla persona non mancano per via dello sgombero dell'area. Questa è la prima contraddizione in cui l'ASP2 va a cadere e incorrere. A maggior ragione nel momento in cui per questo sgombero vengono usati dei bambini, ovvero la scusa dei bambini. Bambini del Castorani che ricordiamolo sono circa una ventina di cui la metà in fascia di fascia di età molto molto piccola quindi neanche potrebbero usufruire di questo spazio. Da quando l'abbiamo aperto noi, quindi gli ultimi cinque anni, è stato aperto per tutti i bambini, compresi quelli del Castorani. Quindi paradossalmente l'intervento che si vuole fare lo si vuole rendere unico per una certa parte di popolazione e non per tutto il resto della popolazione. Ricordiamo inoltre che questo spazio, prima che lo occupavamo noi, e sto per venti anni abbandonato. L'otterete fino alla fine? Fino alla fine. I ragazzi che hanno dato vita a questo luogo di ritrovo hanno avuto la solidarietà anche da parte di alcuni lavoratori della Betafence di Tortoreto che nell'estate scorsa, dopo le minacce della proprietà di licenziamento degli operai, avevano avuto il sostegno del gruppo anarchico. Oggi i ruoli si sono ribaltati. I ragazzi del campetto sono stati tra i primi a manifestare solidarietà alla situazione drammatica che si era creata nel luglio scorso o nel contesto Betafence. Io mi sono sentito di esprimere solidarietà a questi ragazzi che oltre ad una solidarietà morale hanno avuto anche un tipo di solidarietà effettiva, hanno fatto delle raccolte di fondi, ci sono stati vicini, sono stati con noi nel presidio. Io pur non essendo appartenente al mondo anarchico, provengo da un mondo più politico, più di sinistra, mi sento comunque di esprimere piena solidarietà. Io sono uno di quei bambini che è cresciuto al Castorani nel senso che veniva l'asilo qui. In 40 anni qui non si è stato fatto mai niente. E sul tema del campetto occupato abusivamente interviene anche il sindaco Costantini e dice è una vergogna. Restituiamola agli ospiti del Castorani. Potrebbe essere definito es proprio proletario quello di campetto occupato? Io penso che se domani mattina entro dentro casa sua mentre lei non c'è e occupo casa sua ognuno può dirlo in qualsiasi tipo di termine ma legge alla mano non si può fare. Ieri hanno annunciato che loro non abbandoneranno la struttura, continueranno a fare quello che fanno attualmente sul campo occupando qualcosa che è del Castorani e che servirebbe ai bambini del Castorani. E allora come si interviene in questi casi? Io non lo so, non è il mio lavoro. Io posso solo ringraziare la Regione Abruzzo e l'ASPE che si sono impegnate. Quello che posso dire è che degli orfani del Castorani meritano di avere uno spazio verde su cui giocare dove la Regione Abruzzo ha deciso di metterci ben 300 mila euro. Quindi tutto il resto sono chiacchiere. I cittadini di Giulianova e della provincia italiana vogliono sapere che degli orfani non possono andare a giocare in un campo perché d'oggi è occupato abusivamente. È paradossale questa situazione secondo lei? È vergognosa, non paradossale. È vergognosa e quindi mi appello naturalmente a chi deve far rispettare le leggi visto che noi qui in queste aule rappresentiamo le istituzioni quindi rappresentiamo lo Stato, rappresentiamo la Repubblica rappresentiamo la Costituzione italiana spero che tutti quanti facciano rispettare le leggi ma dei bambini, orfani, del più grande istituto probabilmente che abbiamo in provincia di Teramo non possono andare a giocare nel loro parco. Questo i cittadini lo devono sapere. Perché c'è qualcuno che lo occupa? Perché c'è qualcuno che lo occupa ormai da sei anni. In arrivo 77 assunzioni al comune di Montesilvano ci fa il punto Sergio Cinquino. L'azienda speciale del comune di Montesilvano si avvia verso una riorganizzazione del personale come previsto dal piano triennale con un piano di assunzioni di 77 unità. L'assessore alle politiche sociali Sandra Santavenere in un summit ha incontrato il direttore dell'azienda speciale per i servizi sociali Eros Donatelli e i responsabili delle aree della struttura Francesco Brescia per i servizi esterni di assistenti alla persona e alla famiglia Paola Ruggeri per Sprar Asilinido, Sportello, Antiviolenza e Ludoteca Marzia San Vitale per amministrazione generale sviluppo tecnologico e trasparenza amministrativa e Livi a Bentivoglio per la progettazione speciale Fondo Povertà servizi educativi, socioassistenziali e di supporto per tutta la comunità e per valorizzare coloro che quotidianamente svolgono questo lavoro. Tante le figure previste nel piano del fabbisogno del personale educatori, assistenti sociali, mediatori culturali, psicologi operatori generici per l'assistenza e amministrativi che potenzieranno i servizi con i bandi che saranno emessi a breve tra gli obiettivi quello di consolidare le attività dell'azienda e soprattutto attraverso la nuova carta dei servizi comunicare ai cittadini tutte le attività delle quali avvalersi. L'azienda speciale ha già avviato una riorganizzazione del fabbisogno delle risorse umane che prevede nel triennio 2020-2023 l'assunzione di 77 unità con ovviamente diverse specificità competenze che andranno ovviamente a fare la differenza per una riorganizzazione e un potenziamento dei servizi che l'azienda speciale ha messo in campo. Infatti l'amministrazione comunale vuole avvalersi di questo strumento importante attraverso il quale vogliamo migliorare e ovviamente potenziare i servizi alla persona. Quali sono i passaggi e quali sono i servizi particolari che sono richiesti? Quali figure? Ovviamente il passaggio è quello di potenziare come ho detto gli uffici ma soprattutto abbiamo mandato all'azienda di costruire un gruppo lavoro che possa avere la capacità di intercettare finanziamenti proprio per dare risposte che in futuro saranno sempre più necessarie perché le problematiche sociali aumenteranno, il periodo di crisi è evidente a tutti e tra pochi mesi penso che la situazione possa aggravarsi e quindi è giusto che un'amministrazione che tiena la sua città sia pronta per dare aiuto e dare risposte ai cittadini che andranno incontro a delle necessità e dei bisogni e delle difficoltà. E in chiusura vi ricordo questa sera l'appuntamento delle 20.30 con Sport Weekend conduce Luigi Aurelio Pomante, farà il punto su tutte le abruzzesi dalla Serie B all'eccellenza e un focus particolare sarà dedicato anche alla San Benedettese. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie per aver guardato il video